«Nessuna persona è inutile. C'è bisogno di ciascuno di voi. Questo è il messaggio della democrazia». Lo diceva Tina Anselmi, la partigiana Gabriella, qualche anno fa. Nel frattempo il mondo è cambiato, ma è ancora questo il cuore della democrazia. Prendere parte. Io sono Fabiana Martini e prospettiva democrazia il podcast dell'Azione Cattolica Italiana sul futuro del nostro vivere assieme. Uno sguardo plurale a una conquista che diamo per scontata, ma che invece ha bisogno della cura di tutte e di tutti per non appassire. Le voci di chi ogni giorno partecipa alla vita della nostra comunità e prova a guardare lontano per trovare l'alba dentro l'imbrunire. Puoi ascoltarlo dal 22 maggio su tutte le piattaforme audio di streaming. Grazie per la visione! Grazie a tutti!